Caro energia e siccità con il conseguente taglio dei raccolti spingono il rincaro della spesa alimentare con un aumento medio dei prezzi del 10,7%. Tra i prodotti più penalizzati ci sono frutta e verdura i cui acquisti sono crollati in quantità dell'11% rispetto allo scorso anno. Si è notato un lieve calo di clienti, sta molto più attento a cosa acquistare. Noi si cerca di limitare gli aumenti, però per forza siamo obbligati a qualcosa di aumentare perché rimaniamo quasi strangolati. Se i prezzi per le famiglie corrono, l'aumento dei costi colpisce duramente l'intera filiera agroalimentare a partire dalle campagne, denuncia col diretti Toscana, dove più di un'azienda agricola su 10, pari al 13%, è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell'attività, ma ben oltre un terzo del totale nazionale, si trova comunque costretta a lavorare in una condizione di reddito negativo per effetto dei rincari. In agricoltura si registrano aumenti che vanno dal più 170% dei concimi al più 90% dei mangimi, fino al 129% in più per il gasolio. Ora si paghi quasi 300 al mese per un frigo e la pompa di acqua a campo. Tutti i soldi si fanno, va a quello. Allora non si può mettere più alto il prezzo di verdura, perché altrimenti la gente non viene e non compra. Loro tutti vanno al supermercato e allora è un po' male. Il salasso dei costi mette in seria difficoltà anche le imprese del turismo rurale. Secondo le stime di Coldiretti, in regione un agriturismo su tre, pari a circa 1500 aziende, sta valutando di anticipare la chiusura stagionale. Si pensa di riaprire sotto le feste di Natale oppure addirittura nella prossima primavera. Questo è un colpo per l'offerta turistica regionale che rischia di perdere una fetta importantissima della sua proposta più genuina, più rustica, che è molto apprezzata dagli stranieri.